buongiorno buonasera sono scisley marie benvenuti nel mio canale soluzioni mistiche porto la lettura per la riete lune intere cari ariete grazie per il sostegno grazie per l'amore grazie per seguire le letture vi porto la lettura settimanale da usare per i prossimi sei mesi potete approfittarne ok iniziamo grazie mille per l'affetto siete il segno che mi sostiene continuate a darmi i commenti più belli fate più donazioni grazie mille andiamo avanti spiriti miei parliate non io lasciatemi l'oroscopo per la riete la luna ascendente o venere che guarda nel caffè ariete la prima cosa che vedo per te è che dio metterà nelle tue mani tutte le risorse necessarie per la tua felicità ci saranno molti cambiamenti nella tua vita i cambiamenti possono essere che ti sveglierai e sentirai che tutte le cose negative che ti sono successe sono a causa di cattive energie potresti pulirti purificarti pulire purificare la tua casa potresti essere cercando qualcuno che ti liberi se senti di non avere la forza necessaria muoverai energie ok ti vedo qui zaomando ti vedo qui cercando soluzioni vedo che avrai idee milionarie e queste idee milionarie possono portarti molti soldi ok scusa la ripetizione potresti creare qualcosa di cui l'umanità ha bisogno o che potrebbe essere un'alternativa più economica a qualcosa di molto costoso quindi potresti essere un concorrente di un marchio unico di un prodotto e potresti portare risparmi a certi consumatori sento che hai dolori di schiena al collo stai attento ai problemi neurologici i tuoi nervi potrebbero soffrire per il trasporto pesante o il diabete non curato vedo il numero 7 ti vedo nell'87 vedo un desiderio realizzato attraverso un rituale questo rituale potrebbe coinvolgere le tue mani potresti fare delle revoca potresti fare una preghiera pensi molto alla metafisica stai ricevendo la lettera m vuoi firmare qualcosa vorresti avere un posto che chiami casa potrebbe essere un tipo di investimento forse potresti investire in un certificato bancario per fare crescere i tuoi soldi potrebbe essere anche un marchio commerciale lascia un commento se hai pensato di avere un tuo marchio o stai cercando come fare soldi vedo un curioso legame con la santa muerte vedo che potresti annullare alcuni rituali legati alla santa muerte che forse ti sono stati fatti vedo il numero 9 vedo una persona che potrebbe accusarti di errori mi preoccupa un familiare che non sta bene e potrebbe bene considerare la possibilità di parlarci o possibilmente mandarci qualche tipo di aiuto ma ti vedo con quella preoccupazione in testa che stai bene combattendo con te stesso o con te stesso se hai avuto qualche discussione con un parente lasciami un commento se hai deciso di allontanarti da un parente perché ti rendi conto che forse ti fa male o ti rendi conto che forse non cambierà mai e forse già ti infastidisce il modo in cui si esprime e forse non cambierà mai Grazie.